Il signor Parmiro Marcato è stato il primo a soccorrerlo e l'ultimo a vederlo ancora in vita. Io ho visto la macchina, sono uscito, ho aperto la porta che faticavo ad aprirla, ho visto che muoveva un occhio, l'ho toccato appena, ho detto stai sveglio, lui ha fatto un respiro, ho visto che era ancora vivo. Ma la tragedia si era già compiuta. L'impatto è stato tremendo, tremendo perché è una bomba, povero ragazzo. E ho sentito sto botto e ho visto la macchina che è andata a ficarsi là, sono venuto perché il cuore mi faceva così, ho detto questo qua si è ammassato. Abbiamo sentito uno scoppio, un rumore e ci siamo precipitati fuori per vedere. Cristian Stevanato avrebbe festeggiato il suo ventesimo compleanno tra meno di un mese, il prossimo maggio, oggi il suo ultimo giorno di vita. Aveva da poco salutato il padre con cui viveva, malcontente di Mira, chiedendogli l'auto in prestito quando, per cause da chiarire, alle 7 di questa mattina non ha rispettato lo stop lungo via Olmo di Spinea e a velocità sostenuta si è schiantato contro il muro in cemento armato e ferro battuto di questa abitazione, al civico 89 di via Malpaga a Mira. Non ha frenato e allora non si sa come sia avvenuto realmente l'incidente, se sia avvenuto da questa strada o da questa, non si sa. Nell'impatto, mentre l'auto carambolava su se stessa, sradicando pure un piccolo leccio, i pezzi di recinzione in cemento armato volavano a oltre 10 metri di distanza, finendo impazziti sopra quest'altra auto in sosta e rompendo i vetri del garage dell'abitazione a fianco. Cristian Gemente forse chiedeva aiuto. Hanno sentito che c'era ancora il respiro ed era vivo, dopo ho sentito che si lamentava. Lei è stata l'ultima persona che ha visto il ragazzo in vita, è riuscito a sentire che le dicesse qualcosa, qualche frase, una parola? No, era agonizzante. Cristian è morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale, sotto shock due comunità, quella di Mira, dove viveva con il padre, di Camponogara, dove la madre si era da tempo trasferita insieme agli altri due figli.